hai un partner narcisista oppure hai avuto un partner narcisista o borderline e lo psicologo oppure i video ti continuano a citare come vittima non solo di un narcisista ma vittima della scarsa autostima e questo e questo ti svilisce e questo ti fa piombare diciamo ti fa ti mette in un giro di boa dal quale non sei uscito o non sei uscita cioè il problema è questo molti che mi scrivono e molti che mi raccontano le loro storie sento che non hanno una vera e propria sindrome di croce rossina di cenerentola o sindrome dello zerbino si tratta in molti casi di persone assolutamente assertive assolutamente brillanti sul lavoro nelle relazioni sociali e però capita può capitare una volta nella vita di trovarsi di fronte ad una persona abusante ma è siccome è molto difficile a capire se si è empatici chi si ha di fronte solo poi salvo poi alla fine di una storia quando si tirano le somme e oppure si inizia a dare a fare chiarezza a tutta questa confusione che generano le personalità con disturbi dentro di noi e quindi ci informiamo e quindi c'è la possibilità con informazione di capire o più o meno inquadrare il proprio disagio vissuto spesso non si tratta di personalità dipendenti quelle che si legano ai narcisisti e mi dispiace che molti psicologi e molti psicoterapeuti continuino cioè inizino un percorso di terapia per il recupero dell'autostima quando che anche spesso costoso se vogliamo quando poi il problema è soltanto uscire da da una relazione di preciso nella quale si è incappata e il disagio lo svilimento lo scarto che produce un narcisista e la triangolazione sono cose che sono brutte sorprese che possono capitare una volta nella vita si parla di dipendenza quando c'è quando si è recidivi quando tutte le relazioni della propria vita sono impostate in modo sbagliato e poi ci fanno legare persone tossiche a persone che ci fanno sentire meno che niente che minano vanno a minare un'autostima un'autostima che già che già assente o molto carente quindi se non siete persone personalità dipendenti e io me ne accorgo spesso quando vi sento parlare e soprattutto al telefono o ci sono incontri personale di persona insomma se non siete persone dipendenti state tranquille non entrate nel giro di body o sono pure sono sono senza autostima ma come me la ricostruisco l'autostima non valgo niente o sono arrivato una certa età e ormai diciamo la mia personalità è questa e quindi ho paura di affrontare nuove relazioni perché sarò sempre così no non è così non è sempre così quindi mettiamo al bando questo falso questa leggenda che tutte le vittime del narcisista sono personalità dipendenti o che instaura una relazione di codipendenza con il narcisista perché diciamo non è assolutamente vero quindi questo vogliamo possiamo anche appurarlo insieme magari o con un bravo psicoterapeuta che sicuramente vi seguirà e vi tranquillizzerà ciao a tutti